In e grita Andrea Scanzi, Patrizio Bertelli, Mario Cassi, Beppe Angiolini sono i cinque nomi dei testimonial che accompagneranno la candidatura di Arezzo come capitale della cultura 2021. Il primo a commentare la notizia è Andrea Scanzi, il giornalista scrive nel suo profilo Facebook «È per me un grande onore essere stato scelto dalla mia amata città come uno dei testimonial di Arezzo, capitale della cultura. Quando un mese fa era circolato il mio nome proposto da Demos, avevo detto che avrei accettato solo se fossi stato accompagnato da altri testimonial legati alla città e principalmente alla cultura, ribadendo qualsiasi mia lontananza da strumentalizzazioni politiche e così è stato. «Avevo proposto dei personaggi della musica e magari Benigni. Mi fa quindi molto piacere, prosegue Scanzi, che tre cinque testimonial ci siano in e grita. Le ruggine di vent'anni fa col cantante per me sono morte e sepolte, per lui non so. Mi fa piacere ci sia anche Cassi, un baritono di fama mondiale che conosco e stimo. Sua madre ha pure mia insegnante di lettere al liceo. Il mondo è piccolo. Non conosco invece Bertelli e Angiolini, ma ne conosco ovviamente le importanti carriere. Comunque vada, prosegue Scanzi, per me è una grande soddisfazione, una grande gioia e un grande onore grazie Arezzo». Tra i nomi spicca sicuramente, oltre a quello di Enigrita, proprio quello di Patrizio Bertelli, patron di Prada. Secondo il comitato organizzatore, questi cinque nomi possono rappresentare al meglio il volto di Arezzo. C'è tempo fino al 2 marzo per presentare la candidatura di Arezzo al Ministero per i beni culturali.